a posto può andare grazie buon lavoro allora bisogna andare verso vi un'altra volta ma un'altra volta patente e libretto io gli ridò ma ma per curiosità ma lei c'è un fratello gemello che lavora 200 metri indietro assolutamente no grazie può andare eh prego arrivederci dice no come no è identico un altro ma allora questa è una persecuzione e me lo dica che lei ce l'ha con me patente e libretto patente e libretto sì ma scusi ma sono altre volte che lei me li controlla ma non è possibile abbia pazienza ok può andare grazie mille prego prego ma questo è intollerabile scusi eh io prendo provvedimenti faccio un ricorso formale per vedere un'altra cura no senta basta patente e libretto io le faccio rapporto io adesso le faccio rapporto guardi che sto facendo soltanto il mio lavoro sì ma io non posso passare tutta la mia giornata a farmi controllare patente libretto da lei e dai suoi fratelli gemelli senta faccia una cosa provi a uscire da sta rotatoria